Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Nico, oggi siamo qua con Luca, saluta Luca Bella Bella a tutti Bella Oggi siamo in una caccia ai terroristi difficile, non realistica perché siamo solo noi due E vediamo se ce la facciamo a vincere Luca che ne dici? Si Metterò un po' dei momenti più belli, più divertenti E ora ci vediamo al video, bello Sì ho mincinamento Una porta al sicuro Una porta al sicuro Ma sei morto Si Penso tre Ma quanto mi rimardò Oh ma che è? Oh Dio Ma che... Ma che... Ma io non lo so, guarda ticciolo È una cosa ridicola Ma che stanza è? Mamma 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 o il bambarolo aiutano aiutano zio cazzo sto bambarolo di merda oh che madonna santa ma porca l'ultimo un avion ma se vuoi prendere un avion contro il terrorista ma per chiudere in bellezza un bel video di un bimbo che rosica in classificata e ci rimane oh no vabbè fanno la partita perca di cazzo del cazzo perca di cazzo del cazzo avvanno la partita vabbè la classificata peggio per te hai che cazzo di problema perchè